Buongiorno e benvenuti nella magica atmosfera del mio lab. Allora lavorare per moduli cioè ripetere sempre lo stesso modulo quando si realizza un oggetto è un punto di forza perché rende l'oggetto bello movimentato nello stesso tempo meno lavorato. Questo capita anche quando si sceglie un design particolarmente complesso, nella tecnica wire succede spesso, di trovare questi lavori che hanno una ripetizione di un modulo ben rodato, ben studiato. Oggi faremo qualcosa di piuttosto semplice direi due stelle, media difficoltà, è un bracciale in cui avviene questa cosa cioè c'è una ripetizione di un disegno. L'effetto è tridimensionale, secondo me molto bello, molto carino, adattatelo sempre alle vostre esigenze perché a questo dovrebbe servire un tutorial e ci sentiamo tra un attimo. Ho scelto un filo di ottone perché era quello che avevo a disposizione come al solito uso quello che ho in laboratorio, però consiglio vivamente il rame perché è più malleabile, sempre fili comunque ricotti, cioè morbidi, perché questo diametro è veramente importante, sono circa 2 mm di diametro, quindi è un filo un po' difficile da maneggiare con le pinze e con le mani anche da tagliare. Tagliamo alcuni segmenti della lunghezza di 14 cm, quindi lo mettiamo sul piano da taglio oppure usiamo una riga, non importa, e tagliamo sezioni di 14 cm. Ho martellato un pochino i fili per renderli un po' più diritti, ma non ho esagerato perché essendo questo un diametro molto importante, martellando il metallo diventerebbe particolarmente duro e difficile da utilizzare, quindi ho fatto una cosa veramente minima anche perché poi non vi preoccupate, questo non sarà un problema nel fare, nel realizzare l'oggetto. Tagliate se è possibile le estremità con un archetto, fatelo ora che è il momento giusto, altrimenti semplicemente usate una pinza e poi limate. Fatelo in questo momento però perché vi renderà il lavoro più semplice. Allora abbiamo dunque queste sezioni da 14 cm circa, troviamo la metà e segnamola su tutti i pezzi. Ecco, portare avanti il lavoro contemporaneamente su tutte le sezioni è sempre una buona idea perché ci permette di fare un lavoro più uniforme, anche di abbrediare le cose, però io vi mostrerò pezzo per pezzo perché devo farvi vedere il prototipo e capire come vanno collegati gli elementi tra di loro. Ecco, prendiamo il singolo filo, lo prendiamo alla metà e prendiamo la nostra dima, la nostra forma, che ha un diametro di circa 10 mm, ok? Quindi lo puntiamo sulla metà e formiamo un uncino facendo possibilmente combaciare, ecco, le due estremità in questo modo. Non preoccupatevi se non è perfetto, ok? A questo punto, mettiamolo un attimo qui, ecco, in modo che si possa capire, a circa 3 cm dall'alto della curva, quindi 1, 2, 3, fate un segno da una parte e dall'altra di questa forcina. Portate avanti, come vi dicevo, contemporaneamente anche questi pezzi, così sarete facilitati nelle operazioni successive. Quindi ho fatto questi segni, prendo la nostra dima però dal lato di 6 mm di diametro, quindi un po' più piccola, e disegno delle curve centrandole qui dove ho fatto i segni, ok? Quindi ecco perché è importante non indurire troppo questo tipo di materiale, e porto verso l'alto. La stessa cosa farò da questa parte, così, vediamo un po' se più o meno corrispondono, posso un po' correggere, vediamo un po'. Siamo arrivati a questo punto, fate ora i circoletti sull'estremità, perché poi non riuscirete più, quindi prendete una qualsiasi pinza, una pinza con le punte arrotondate, e fate un circoletto verso l'esterno, il più possibile piccolo. Sarà un po' difficile, ma vedrete che con un po' d'impegno si riuscirà, e qui effettivamente è un po' dura. Potete aiutarvi con altri strumenti, io di solito uso questa, che è un chiudianello, anellini, che mi aiuta sempre molto a fare tutto, tranne che a chiudere gli anellini, vedete, in questo modo, verso l'esterno, sembra un animale marino, no? Ok, anche di qui, qui ci vuole un strumento heavy duty, cioè piuttosto, una pinza piuttosto forte, ok, chiudete, chiudete in questo modo. Ora, passiamo al martello, prendete la vostra base per martellare, cosa dovete martellare? Le estremità arrotondate, che sono tre, utilizzate un martelletto non molto grande, e state solo sulla curvatura, non salite verso i lati, quindi, io utilizzo il martello sempre un po' con un orientamento, direi, a 45 gradi, da un lato, poi gli altri due lati, la forma è questa, poi avvicino molto, facciamo fare una curva, qui c'è da spingere un pochettino, in questo modo, sovrapponete alla curvatura centrale, quelle laterali, anche se sono un po', come vedete, si orientano un pochino di sbieco, ma stanno bene, tutto sommato, aspettate, questo è un po' troppo, ok, in questo modo, vedete, poi il risultato finale del singolo pezzo all'incirca che è questo, per collegarlo agli altri pezzi, li dobbiamo fare, e ora vi mostro come si fanno i collegamenti, però questo è il modulo base, quindi proseguiamo per capire come si crea quell'interessante intreccio. Ecco, ho fatto già alcuni elementi, l'ultimo lo facciamo insieme, giusto per rivedere la tecnica? Allora, ho fatto un uncino piegando a metà il segmento di filo, lungo circa 14 centimetri. Allora, adesso lo dispongo sul tappetino da taglio e partendo dall'alto, dalla curvatura, calcolo 3 centimetri, 1, 2, 3, scusate, 1, 2, 3, segno questi punti, sia da un lato che dall'altro, poi prendo la dima dal lato, oppure l'oggetto che avete, anche di uso comune non importa, che abbia un diametro di circa 6 millimetri, lo punto su questa metà, non è una metà esattamente, ma su questo punto e lo piego, piego il filo verso l'alto, in questa maniera, lo faccio anche dall'altra parte. Vediamo se più o meno è venuto uguale, all'incirca, quasi, quasi uguale, torno un pochettino indietro, ok, vedete? Ora, prima di martellare, direi che forse è meglio avvicinare un pochino i fili tra di loro, non troppo, ma ecco, un po' così, poi faccio subito, prima di scordarmi, le asolette, perché poi è molto difficile ripeterle, verso l'esterno, più piccole che è possibile, e chiuse su loro stesse, avvicino, se è meglio, viene una curva più bella, e anche di qui, da questo lato. Non martelliamo verso l'alto, ma solo la curvatura. Ora, avviciniamo un po' questa specie di medusa, avviciniamo le due asolette esterne, le due ali esterne, le avviciniamo verso il centro, si devono praticamente incontrare e anche questo lato, questa parte, si deve incontrare, avvicinare, ok? Ce n'è sempre una che sale un pochettino, ma sta bene anche un po', dà un effetto tridimensionale. Adesso, tutti questi pezzi vanno uniti, allora, intanto vi dico che la direzione è quella del trenino, che la parte superiore è quella dove ci sono le due asolette, le due ali che si alzano, quindi questo è il lato superiore, e la direzione è un po' come nei vagoni del treno, sono quindi disposte in questo modo, ogni segmento è unito all'altro in questo modo, scusate, questo è lì, no, 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 era di qua. Ora, per unire un elemento all'altro, prendo uno, che sarà il principio, l'inizio, diciamo, la motrice di questo bracciale, alzo le alette un pochino verso, devo creare uno spazio, verso l'alto, e dopo aver alzato un pochino le due alette, inserisco l'elemento dall'ansa maggiore, non è il lago maggiore, dall'ansa più grande, proprio da qui, e se è il caso qui stringete un pochino e lo fate passare, vedete, poi chiudete da qui, chiudete, sistemerete, alla meglio, naturalmente, perché sia bello da vedere, e state certi che non si aprirà più in questo modo, e continuate in questo modo, anche qui voglio alzare un pochino, leggermente, qui ho già stretto un po' le due anse tra di loro, ma giusto per fare passare l'altro elemento, solo per quello, passa da sopra, vedete, poi chiudo, schiaccio, vedo anche qui, schiaccio anche qui, perfetto, date una sistemata e tutti gli elementi sono uniti, guardate che bello questo effetto tridimensionale, vedete, bellissimo, ecco, anche dall'alto, qui ho messo un gancio solo per pura dimostrazione, perché non è un gancio effettivo, e io spero che vi piaccia, che vi sia piaciuto, ditemi, proverete a rifarlo, proverete a fare una vostra versione, vi piace questo effetto, io devo dire che lo adoro, penso che lo metterò anche nel mio negozio online, perché no? che ne dite? Non era male, è piuttosto bello, mi raccomando fate i vostri aggiustamenti, utilizzate il materiale che volete, cambiate, utilizzate l'argento, consiglio moltissimo il rame, placatelo, rodiatelo, fatene una collana, avete moltissime chance e possibilità, ma intanto voi seguite il canale, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, condividete, diffondete il verbo tra gli amici, e continuate a seguirmi, perché la settimana prossima io sarò qui con un altro tutorial, vi abbraccio, grazie per essere stati con me, ma com'è sta storia della ppp? grazie per essere stati con me, che cosa dici? alla mia seconda personalità, ciao, alla prossima! grazie per la visione! 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 grazie per la visione!